Sarà aperta dal 2 al 31 luglio all'ex pescheria vecchia di Este la mostra omaggio a Delmo veronese, percorsi d'arte e di vita. Ricordiamo Delmo non soltanto come pittore ma anche come studioso e naturalista. Il museo di Cavabomba di proprietà della provincia contiene una collezione straordinaria di fossili, di minerali. I nostri bambini, i nostri ragazzi che la visitano trovano sempre scritto, donato da Delmo. La provincia non poteva non esserci e quindi supportiamo tutta questa rassegna, questo omaggio che vede una serie di iniziative dall'inaugurazione della mostra a convegni, concerti, tutto in ricordo della figura di Delmo veronese. È uno dei personaggi più amati nell'ambito artistico nella città di Este, quindi ho trovato un grandissimo consenso da parte di tutti quelli che sono stati interpellati per dare le loro opere. E veramente c'è stato un amore nel darle, tanto che abbiamo accumulato forse anche più opere di quelle che ci aspettavamo. Grazie. Grazie. Grazie.